Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito con i numeri relativi al Covid-19. Aumentano i contagi, aumentano le vittime, aumentano i ricoveri in terapia intensiva con una progressione esponenziale che preoccupa i medici ospedalieri. Con questa progressione, hanno detto oggi, tra due mesi i reparti rischiano il collasso. Insistono, bisogna lavorare di più sulla tracciabilità e sui tamponi che sono ancora al talone di Achille di tutta questa situazione. Vediamo il servizio. Più tamponi, più casi di Covid-19. La regola del rialzo nei giorni che seguono il weekend resta la stessa e si conferma anche oggi. I nuovi positivi erano 4.619. Ieri, a fronte di poco più di 85.000 test diagnostici effettuati, ora il nuovo balzo dei contagi e si torna, dopo un giorno di tregua, vicino ai 6.000 nuovi casi di coronavirus nel nostro paese in un solo giorno. Sono 5.901 le positività riscontrate nelle ultime 24 ore, 112.544 i tamponi effettuati, 20.000 e meno rispetto al giorno del record di esami. Lombardia con più di 1.000 casi di Covid-19, poi Campania, Piemonte e Lazio, le regioni più colpite. Ma le cifre odierne fanno emergere altre preoccupazioni a partire dai decessi, che oggi sono stati 41, ieri erano 38. C'è poi la questione delle terapie intensive, che negli ultimi giorni erano cresciute con una media di 30 unità per ogni singolo giorno. Oggi raddoppiano in 24 ore, sono 62 le persone entrate in un reparto di terapia intensiva. In totale 514 pazienti. Siamo ancora lontano dai limiti di guardia, ma il trend delle ultime settimane spinge l'ANA, o il principale sindacato dei medici ospedalieri, a lanciare un grido d'allarme. Se i livelli di crescita si confermeranno questi, addirittura arriveremo a 90 nuove terapie intensive al giorno, rischiamo di avere la saturazione dei reparti nel giro di due mesi, dicono i medici, che si lamentano anche per una mancanza di personale specializzato. Il contagio è ormai in tutto il paese, bisogna lavorare per evitare nuove forme di lockdown più drastiche. Lo ha detto il ministro Speranza, intervistato a Di Martedì, il ministro della Salute ha ripetuto che dobbiamo lavorare sul vantaggio che abbiamo rispetto ad altri paesi come la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, la stessa Olanda che oggi ha avuto ben 7.000 casi e dove da domani i ristoranti e i bar saranno chiusi e sarà proibito incontrarsi in più di 4 persone sia all'aperto che nelle case private. Una questione che riguarda anche il nuovo DPCM che raccomanda di non incontrarsi in casa in più di 6 persone. Vediamo quali sono tutti gli altri provvedimenti. Il primo punto del decreto riguarda l'utilizzo delle mascherine. Prevede l'obbligo di averle sempre con sé e di utilizzarle in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle proprie abitazioni e in quelli all'aperto che non garantiscono l'isolamento. Un obbligo da cui sono esentati soltanto i bambini sotto i 6 anni, chi soffre di patologie incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione e chi fa pratica sportiva all'aperto. Tra le nuove misure più discusse c'è il divieto stabilito per le feste private al chiuso o all'aperto. E' quella forte raccomandazione del governo che entra nella sfera privata evitare di ricevere in casa più di 6 persone tra familiari o amici non conviventi. Mentre entra in vigore l'obbligo di limitare la presenza a non più di 30 partecipanti in caso di cerimonie civili o religiose. C'è poi il capitolo vita notturna. Restano chiuse discoteche e sale da ballo. Per quanto riguarda locali, bar e ristoranti, la stretta prevede servizi di ristorazione consentiti fino alla mezzanotte, ma dopo le 21 sarà vietato consumare in mancanza di un servizio al tavolo che sia in grado di garantire il necessario distanziamento. Sulla scuola Palazzo Chigi non ha accolto la proposta delle regioni avanzata dal governatore del Veneto Zaia di tornare temporaneamente alla didattica a distanza per le ultime classi delle superiori in modo da decongestionare i trasporti pubblici. Ha però stabilito il divieto per gite scolastiche, viaggi di istruzione e iniziative di scambio o gemellaggio tra gli studenti. Misure restrittive riguardano anche gare e attività legate agli sport di contatto praticati a livello amatoriale come il calcetto e il basket, ad eccezione delle società professionistiche o dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal Comitato Paralimpico che garantiscano l'applicazione dei protocolli anti-Covid. Queste sono le nuove misure, alcune hanno ovviamente acceso la polemica politica per la Lega e Fratelli d'Italia, si tratta di provvedimenti liberticidi soprattutto per quella raccomandazione appunto di non incontrarsi in più di sei in casa. Dobbiamo tutelare la salute pubblica e la ripresa economica è stata la replica del Premier Conte che ha garantito non, ma daremo certo la polizia nelle case, vediamo. Il decreto che ho firmato comporta sacrifici ulteriori per affrontare questa nuova fase. La curva sta risalendo, l'Italia è in una condizione migliore rispetto ad altri paesi europei, ma non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione. Il Premier illustra il nuovo DPCM che è entrato in vigore a mezzanotte e aggiunge l'obiettivo fondamentale è evitare di far ripiombare il paese in un nuovo lockdown generalizzato. Giuseppe Conte spiega che tutti i provvedimenti adottati rispondono ancora al criterio dell'adeguatezza e della proporzionalità. Misure molto più restrittive, avverte, sarebbero sproporzionate e rischierebbero di non essere rispettate. Il Premier poi si difende dalle accuse di compressione dei diritti democratici e dice abbiamo il dovere di tutelare la vita e la salute dei cittadini, oltre a evitare che l'economia vada a rotoli. Per ciò che attiene ad uno dei punti più impopolari del nuovo DPCM, quello che riguarda le feste in casa, assicura, non è un divieto ma una raccomandazione. Le feste sono situazioni di pericolo, comunque non manderemo le forze di polizia nelle case degli italiani. La Lega però attacca. Riteniamo molto gravi le frasi del Ministro Speranza, chiarendo che nelle nostre case il Governo agirà attraverso segnalazioni, cioè delazioni che ci riportano ai regimi totalitari. Pronta la risposta di Speranza? Nessun rischio dell'azione, non appartiene alla nostra cultura. Anche Meloni è dura. Dal Governo, dopo nove mesi di poteri speciali, soluzioni ridicole pensate per devastare interi settori della nostra economia, senza risolvere alcun problema. È stata arrestata a Milano dalla Guardia di Finanza Cecilia Marogna, la manager collegata al caso del Cardinale Becciu. La donna, 39 anni, è indagata per peculato per distrazione di beni su di lei. C'era un ordine di cattura internazionale emesso dagli investigatori vaticani. Sarà per questo estradata. Marogna avrebbe distratto fondi che erano stati inviati su un conto corrente intestato ad una società che faceva riferimento appunto a lei. È situata in Slovenia. Questi fondi sarebbero serviti per tutelare le missioni umanitarie all'estero attraverso una serie di legami con i servizi segreti. Torniamo a parlare di Covid negli Stati Uniti. Una delle società impegnate nella sperimentazione del vaccino ha sospeso la sperimentazione appunto per preoccupazioni legate alla sicurezza. Donald Trump proprio su questo sta facendo una delle battaglie per la sua campagna elettorale, cioè per l'arrivo a breve del vaccino. Intanto, come vedete, mostra la propria guarigione come argomento di forza in campagna elettorale. Ieri era in Florida davanti a migliaia di persone ammassate senza mascherina e nei prossimi giorni lo attende un vero tour de force. Il suo rivale, però, Biden, è dato in diversi stati dieci punti avanti. A breve avrà accanto a sé, per la parte finale della campagna elettorale, l'uomo con cui ha lavorato per anni alla Casa Bianca, Barack Obama. E dal ciclismo al mondo del calcio continuano a emergere nuovi casi di positività al coronavirus. L'ultimo più eclatante, quello di oggi, riguarda Cristiano Ronaldo, che si trova in Portogallo con la sua nazionale. C'era poi stato l'allarme rientrato al secondo tampone negativo per Stefan El-Sharawi, che domani giocherà con la nazionale italiana contro l'Olanda. La positività di Cristiano Ronaldo, riscontrata durante il ritiro del Portogallo, ha avuto un effetto dirompente, unendosi a quelle già conclamate dei suoi colleghi di nazionale Giuseppe Fonte ed Anthony Lopez. CR7 dovrà saltare la sfida di domani in National League contro la Svezia, ma il rischio che possa non essere l'ultimo di una più lunga serie c'è, soprattutto dopo la diffusione delle immagini, che lo ritraggono sorridente ed affettuoso assieme ai suoi compagni di squadra, in barba a quel distanziamento sociale inutilmente invocato da ogni dove. C'è ora da capire come procedere per il ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo e se sarà possibile seguire il medesimo iter applicato agli azzurrini dell'Under 21, risultati positivi e rientrati già dall'Islanda. Di certo c'è che l'asso portoghese salterà la prossima sfida di campionato a Crotone e l'esordio in Champions League previsto martedì prossimo in casa della Dinamo Kiev. Allarme per fortuna rientrato invece da ritiro azzurro, con la positività prima annunciata, poi cancellata nel giro di un paio d'ore, di Stefano Sharaoui, che sarà dunque abile e arruolato nella sfida di domani a Bergamo contro l'Olanda. Brutte notizie anche dal Giro d'Italia, dove la bolla protettiva rischia di esplodere. Dopo la positività di Simon Yates nei giorni scorsi, Oggi è stata la volta di Steven Kruskic e Michael Matthews e mentre la direzione gara annunciava il regolare proseguimento della corsa in rosa, le rispettive squadre dei due ciclisti hanno preferito abbandonare il giro.